Il monopattino elettrico è un mezzo sempre più diffuso in Italia, soprattutto nelle grandi metropoli dove si può addirittura noleggiare. Anche in Umbria iniziano a vedersi tanti giovani che dispongono di questo mezzo ma che spesse volte non sono a conoscenza del suo corretto uso. Non è difficile vedere in via Settevalli o in altre vie ragazzi sfrecciare a velocità fuori dal limite o percorrere strade extraurbane. Satiri Auto ha quindi deciso con il suggerimento dell'assessore alla sicurezza del Comune di Perugia Luca Merli e la supervisione delle comandante della Polizia Locale di Perugia Nicoletta Caponi di realizzare un video contenente le norme delle codice della strada nonché il giusto comportamento da tenere al fine di non mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada durante la guida di questo mezzo. Il video è stato visionato dalle autorità competenti e ne è stata certificata in maniera formale la correttezza dal punto di vista dei contenuti e del codice della strada. Tale video oltre ad essere lanciato nei vari social sarà parte integrante delle lezioni che l'associazione Moto Incontro di Eros Celaia terrà presso gli istituti superiori della regione riguardante la sicurezza stradale.